Fontanella pubblica, il messaggio è stato recepito. Nei 37 giorni di attività della fontanella pubblica di Tripoli, inaugurata il 1 ottobre e che sembra essere stata presa d'assalto da molti marcianesi, sono stati erogati ben 81.000 litri d'acqua. Un vero e proprio successo e una grande forma di risparmio economico e di rispetto per l'ambiente. 81.000 litri equivalgono a 54.000 bottiglie da un litro e mezzo per una spesa complessiva di 2.700 euro a fronte dei 12.150 che sarebbero serviti per acquistare acqua minerale in bottiglia, visto che il costo medio al supermercato è di circa 15 centesimi al litro. Ben 9.450 euro risparmiati dai marcianesi che hanno scelto di rifornirsi a Fontanella di Tripoli, mentre l'ambiente ringrazia per le 54.000 bottiglie di plastica in meno che si troveranno nelle discariche, senza considerare l'inquinamento provocato anche nel trasporto stesso dell'acqua minerale dalla fonte al punto vendita. Per chi ancora non ha mai utilizzato questa fontanella pubblica ricordiamo che è in funzione tutti i giorni dalle 7 alle 23. Eroga acqua liscia e frizzante a 5 centesimi ogni bottiglia da un litro e mezzo, 3,3 centesimi al litro. A ringraziare sono l'ambiente ed il portafoglio. A ringraziare sono l'ambiente ed il portafoglio.